Il Consiglio Comunale di Palermo ha approvato l'intesa con l'autorità portuale e dentro questa intesa c'è la previsione secondo cui tre porticcioli turistici di Palermo, Acquasanta, Arenella e Santerasmo, saranno gestiti dall'autorità portuale. Lei ha votato contro, ci vuole spiegare perché? Ma esattamente su questo punto mi sono determinata a votare contro perché questa gestione da parte dell'autorità portuale di questi porti turistici è assolutamente illegittima e spiego perché è illegittima. Perché nel 2004 c'è stata una sentenza del Consiglio di Stato che ha affermato che questi porti dovevano essere gestiti dal Comune di Palermo. Conseguentemente a questa sentenza il Presidente della Repubblica ha emanato un decreto presidenziale con il quale si conferma il dato di questa sentenza. Quindi fino al 2005 c'era questa certezza di diritto del Comune di Palermo alla gestione di questi porti. Che cosa è successo subito dopo? Nel mese di aprile il Sindaco di Palermo dell'epoca, che è sempre cammarata, ha scritto al Ministero dei Trasporti dichiarando la propria rinuncia a gestire questi porti. Questo è un fatto anomalo perché un Sindaco intanto non può prendere una decisione di questo peso autonomamente e da solo. Avrebbe dovuto quantomeno chiedere un parere al Consiglio Comunale allora e non lo ha fatto. Ma la cosa più grave è che il Ministro dell'epoca, che era il Ministro Lunardi, a seguito di questa lettera fa un decreto ministeriale in cui ribadisce la competenza dell'autorità portuale su questi tre porti. Ora, il dato della illegittimità sta nel fatto che un decreto ministeriale non può superare una sentenza del Consiglio di Stato né tantomeno un decreto del Presidente della Repubblica. Ma c'è un dato economico che è molto grave. Il Comune ha rinunciato, nell'esercizio della sua potestà, ad avere come contropartita di questi porti un introito economico. Quindi siamo davanti a un danno erariale. È come se uno rinunciasse a una proprietà a favore di un altro senza avere in cambio nulla. C'è una stima a quanto ammonta questo danno erariale? Il danno erariale è sostanzialmente corrispondente a quelli che sono gli introiti che si ottengono dalla gestione di questi porti che, come è noto, sono ancora insufficienti rispetto alla domanda. Quindi c'è da presumere che la gestione di questi porti produca introiti considerevoli per l'autorità portuale. Se li gestisse direttamente il Comune, questi introiti andrebbero al Comune. Ma io vado anche oltre, dico se il Comune non è capace di gestirli, poteva comunque fare un accordo, ecco perché si parla di intesa tra l'autorità portuale e il Comune di Palermo, poteva fare un accordo a fronte del quale l'autorità portuale avrebbe versato, avrebbe dovuto versare nelle casse del Comune una certa somma. E non c'è neanche questa previsione? Non c'è perché con la rinuncia fatta dal Sindaco nel 2005 la competenza, illegittimamente ribadisco, è stata assegnata all'autorità portuale. Ma è stato un ricorso contro questa decisione del Sindaco di abdicare? Purtroppo non c'è stato un ricorso, io non escludo che si possa fare. In ogni caso si potrà fare in sede di approvazione definitiva di questo piano regolatore che tra l'altro contiene altri punti di criticità, alcuni dei quali riguardano il contrasto tra alcune previsioni e quelle del piano regolatore generale di Palermo, segnatamente il piano per il centro storico, il PPE, e riguardano il Castellammare sicuramente, la zona del Castellammare, e riguardano anche la Cala. E poi c'è un elemento che a me pare anche più grave, cioè l'assenza di una valutazione ambientale strategica che è richiesta per legge su questi piani importanti e che deve precedere la redazione del piano, perché la valutazione ambientale strategica, al contrario di una via, cioè di una valutazione di impatto ambientale, riguarda la possibilità di confrontare ipotesi diverse per arrivare a quella che, dal punto di vista dell'impatto ambientale, ha le migliori condizioni. Quindi io credo che ci siano molti elementi per impugnare questo provvedimento e non escludo che possa essere fatto nelle prossime settimane. Senta, ma secondo lei da cosa nasce questa decisione del sindaco di volere affidare all'autorità portuale la gestione di questi tre porti, c'è sullo sfondo un accordo politico, c'è profumo di affari, cosa, si intravede qualcosa, insomma? Ma la seconda che ha detto lei, c'è il profumo di affari, c'è sempre quando ci sono progetti di trasformazione del territorio, poi se queste cose possono avvenire nel rispetto della legge e delle norme e quindi avere assoluta trasparenza. Quindi non sono in grado di dire se da ora in avanti verranno rispettate o meno le norme. Certamente fino ad ora ci sono state alcune violazioni e questo fa pensare male. Ma detto questo, sicuramente c'è un accordo politico perché la delibera si compone di due parti, una è appunto l'intesa sul PRP, l'altra sono le cosiddette aree bersaglio. Queste aree bersaglio sono un modo per pianificare surrettiziamente il territorio, utilizzando il PRP come un cavallo di Troia, senza andare ad avere una visione complessiva della città. Ora mi hanno insegnato i miei maestri all'università che quando tu intervieni su alcune aree che sono aree strategiche, inevitabilmente devi intervenire sull'intero complesso della città perché la città non è fatta di 9, 10 o 15 aree. È un territorio che ha una serie di problemi e questi problemi possono essere risolti con una visione complessiva. Questa giusta posizione di queste parti fa pensare e ritenere che ci fosse un accordo politico. Per dirla in sintesi, l'autorità portuale riceveva come donazione i tre porti dal sindaco di Palermo e il sindaco di Palermo agganciava al progetto del piano regolatore del porto una visione urbanistica che era tutta da definire e tutta da andare poi a sviluppare. Comunque per questa parte relativa alle aree bersaglio il Consiglio Comunale ha bloccato queste previsioni o sbaglio? Sì, il Consiglio Comunale ha affermato un principio importante che è la pianificazione del territorio del comune spetta all'amministrazione comunale e quindi ha interrotto questo disegno un po' perverso stralciando queste aree bersaglio dalla delibera del PRP. Cosa risponde a chi dice che c'è la possibilità che l'autorità portuale possa risollevare dal degrado questi tre porticcioli? E quindi che alla fine potrebbe essere anche un'esperienza non del tutto negativa? No, io questo potrei anche convenire però mi si deve dimostrare che come avviene in tantissimi comuni del nostro paese che come è noto è il paese che ha la più ampia fascia costiera nel Mediterraneo sono moltissimi i comuni che gestiscono direttamente i porti di quarta classe, i cosiddetti porti turistici e pescherecci e io non credo che il Comune di Palermo non possa avere questa capacità ma pur ammettendo questo io non sono contrario a una gestione fatta da soggetti diversi purché sia chiaro il rapporto cioè il titolare della potestà su questi porti rimane e rimane il Comune di Palermo avrebbe potuto contrattualmente trovare una situazione con l'autorità portuale per cui a fronte della gestione da parte dell'autorità portuale il Comune comunque avrebbe incamerato delle somme che erano come prendere in affitto un locale dove poi uno fa un'attività di impresa quindi un'amministrazione comunale che funziona è corretta è corretta, sarebbe in grado comunque di gestire bene non c'è dubbio poi voglio ricordare che il porto dell'Acqua Santa non è affatto degradato è un porto che funziona molto bene quello della Renella è previsto un ampliamento su Sant'Erasmo, devo essere sincero il progetto che l'autorità portuale ha fatto è un progetto che produce anche danni e problemi dal punto di vista ambientale perché siamo in prossimità della foce del fiume Oreto bisogna decidere o si cancella il fiume Oreto ma credo che non lo possiamo fare non lo possa fare anche l'autorità portuale oppure bisogna ridimensionare quel progetto che è veramente sovradimensionato grazie a tutti grazie a tutti